Ha proclamato questo sciopero per il 16 dicembre, c'è ancora, c'è, era un'angere di omissione, così diceva l'annino, ma infatti questa mediazione ad oggi non c'è, non ci sono tavoli, non c'è nulla in previsione e quindi lo sciopero rimane conservato. Lo sciopero che ha fatto in sorpresa non solo il centro-destra, ma soprattutto il centro-sinistra, che appunto è arrivato in un'intervista oggi al Corriere della Sera, io non mi aspettavo lo sciopero. Allora, intanto do il buongiorno agli ospiti che sono qui in compagno questa mattina, Massimiliano Cavarari dell'Università Mercatologo Studio, buongiorno, in collegamento Pietro Salvatori dell'Huffington Post, Buongiorno, buongiorno, buongiorno Andrea Ruggeri per l'Italia, buongiorno a Pino Capras di Alternativa C. Buongiorno, ben trovato. Allora, Ruggeri, intanto comincio dall'ultima parte, dalle parole di Enrico Letta e su Berlusconi, è un candidato, se ne parlerà a gennaio, va bene, facciamo finita di parlare a gennaio, però di sicuro è un candidato che anche nelle parole di Enrico Letta non è nelle cose, insomma è un candidato divisivo, non si ha l'impressione che potrà essere quello, il nuovo sul tappeto che puoi mettere d'accordo. Io non vedo neanche per quale motivo si debba chiedere Berlusconi, una caratteristica che non si mette a nessuno. Facciamo l'esempio dell'ottimo, ottimo per tutti, Presidente Mattarella, non nasce come candidato di tutti, nasce come candidato di parte, nel passato politico, peraltro, c'era, non c'è, 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 ma c'è, non c'è, non c'è. il fatto che lo continuiamo a alloggiare di continuo perché se lo merita facciamo vedere che è stato l'unitarietà che non è mai stata la richiesta di candidati per esempio da sinistra ci trova una trella che non deve vedere che ne so anche Romano Croni che sono di noi che c'è il nostro tempo vedendo il fatto che Romano Croni si candidasse a Trinale poi proprio no quindi ecco sempre anche il direttore io scelaro ma non è che forse Italia abbiamo detto non si può candidare a Trinale perché è diviso quindi io credo che il Presidente Berlusconi che oggi non ha mai formalizzato il suo interesse ufficiale a candidarsi a Trinale che ovviamente lo avrebbe candidato a noi se si candidasse sarebbe un primissimo candidato che non ha mai formalizzato l'unitarietà e la destra è l'uomo che ha reso una tasse per tutti non capriccio ma non è giusta la presa è un uomo che rappresenta l'Italia che ha fatto spezzare le mani del Congresso americano che ha messo l'uomo 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 che ha messo insomma credo che ci abbia visto l'uomo che ha messo anche sulle tesi nord-africane nel 2011 insomma diciamo che è indicato la presa che caccia ognuno e quindi si è aperto il Presidente e come mai ripeto che ci riesce nel farci o di più che è il nostro dei parlamentari di Forse Italia che sarebbe quello che mi ha detto il Finale perché senta ha cambiato però un po' il grande il nostro partito su i 5 stelle siamo passati da sono buoni solo per noi non vorrei neanche pulire i miei panni di Forse Italia